Abbiamo diverse macchine da taglio realizzate proprio per ottenere i tagli tisana i migliori in assoluto e devo dire che riusciamo ad ottenere dei tagli ben calibrati e perfetti. Questo è un esempio di taglio tisana della betula alba. Il c'è diverse macchine per coppare i vegetali su cui vogliono fare e per fare le tisana. Qui c'è un esempio di macchine che permette là, abbiamo coppato la betula e quindi vedete la qualità della coppa che ci permette di avere un prodotto di molto alta qualità.